buongiorno amici amiche buon sabato 27 marzo 2021 ascoltiamo e commentiamo il vangelo secondo giovanni capitolo 11 versetti 45 56 allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero che facciamo quest'uomo compie molti segni se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione ma uno di loro caifa che era sommo sacerdote quell'anno disse loro voi non capite nulla non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera questo però non lo disse da se stesso ma essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che gesù doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione ma anche per riunire insieme i figli di dio che erano dispersi gesù sta per entrare a gerusalemme molti riconoscono che le sue opere sono meravigliose i giudei hanno paura di perdere il loro potere caifa che in quell'anno era sommo sacerdote profetizzò a sua insaputa che gesù sarebbe dovuto morire per tutti l'intento col quale caifa disse questa cosa non era certamente buono ma senza saperlo stava realizzando le profezie che la sacra scrittura già riportava e il progetto che dio già aveva in mente il figlio deve morire per il bene di molti che storia dio si serve della cattiveria di alcuni uomini per realizzare i suoi progetti attenzione però ho detto si serve della cattiveria non ho detto che è cattivo o manda il male anche in egitto il signore si è servito del cuore ostinato del faraone per cacciare via gli ebrei affinché tornassero nella propria terra realizzando così la sua promessa questo ci insegna che dobbiamo fidarci di dio lasciarlo agire anche quando tutto ci sembra insensato e orrendo in questo tempo di pandemia ad esempio molti non capiscono perché dio permetta tutto ciò e perché questo flaggello non accenna a diminuire l'ateo è colui che non vuole fidarsi di dio perché crede di esserne migliore ma dio sa quello che permette buona giornata a tutti e buon weekend